Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Dexter e oggi ragazzi siamo in un nuovo video Non di Fortnite, un video più particolare Perché come ben sapete, oggi, questa sera, comincerò la nuova serie di The Last of Us 2 Ora, siccome magari molti di voi non sanno di che cosa parla The Last of Us Vi voglio un attimo fare un mini rassuntino di cosa parla The Last of Us 1 In modo che dopo, magari, andando avanti con la successione dei fatti del 2 Magari sì, posso andare a ricordare qualche cosa dell'1 Però, diciamo che, ovviamente, se non avete visto il primo Naturalmente non potete andare a capirci nulla di quanto riguarda il secondo E quindi, ci tenevo un attimo a fare un riassunto del primo In modo tale che, almeno, se andiamo a fare il 2 e non avete visto l'1 Potete, diciamo, capirci qualcosa Allora, come avevo accennato nel video di Fortnite Che poi non è stato più un video di Fortnite ma di The Last of Us Perché ho dovuto fare l'aggiornamento Appunto, narra di questa malattia che si è espansa per tutto il mondo E, appunto, questa malattia arriva fino al cervello E fa diventare tutte le persone degli infetti Qui, appunto, i protagonisti sono Joel ed Ellie Joel, appunto, aveva una figlia Che, appunto, a un certo punto, diciamo, che cosa è successo? Suo fratello Tommy è venuto a prendere la figlia di Joel E, appunto, anche Joel E cosa succede? Praticamente li prendono in macchina per scappare via da, appunto, gli infetti E andare in una zona, diciamo, di quarantena Insomma, appunto, all'inizio Tommy si divide, appunto, con Joel E, appunto, la figlia di Joel E, appunto, se ne vanno In una zona per scappare Lui va, appunto, a cercare una zona migliore Mentre Joel e sua figlia, appunto, cercano di scappare via E, cosa succede qui? Arriva una guardia E questa guardia, che cosa fa? Chiede indicazioni per quanto riguarda, appunto, che cosa dovrebbe fare Con Joel ed Ellie Sì, ed Ellie, scusate E la figlia di Joel E, appunto, gli viene date indicazioni di ucciderli Che cosa succede? Joel ha cercato in tutti i modi di convincere la guardia Ma, alla fine, quello che è successo È che ha sparato alla figlia Ha sparato alla figlia E poi è arrivato, per fortuna, Tommy Che ha ucciso la guardia Solo che, appunto, per la... Per, appunto, il proiettile Conficato nella pancia, raga La figlia è morta Passano circa 20 anni E, qui, appunto, Joel aveva già conosciuto una ragazza Con cui, appunto, andare a fare le missioni Per uccidere gli infetti ed altro Che si chiama Tess Qui, che cosa succede? Un tizio doveva consegnare a loro delle armi Ma è passato un po' di tempo Da quando doveva consegnargli E non gliele aveva ancora consegnate Così sono andati fino alla zona dove, appunto Dove, appunto, diciamo Si trovava quel tizio L'hanno ucciso Appunto, cercando indicazioni su dove sono le armi E hanno scoperto Che, appunto, le aveva consegnate alle luci Le luci chi sono? Molto importante questa cosa, raga Le luci sono un gruppo, diciamo Di persone che, appunto, aiutano a guarire le persone E, appunto, sono il gruppo più grande Che cercano un vaccino Qui, dopo che è morto il tizio A cui doveva, che, appunto, doveva consegnare le armi A Joel e Tess Arriva la capa della luci Che è una donna di colore E, appunto, gli dicono Se mi aiutate a fare questa consegna Visto che stava un po' male Le armi sono vostre E vi do anche di più La consegna era Ellie Ellie è, appunto, questa ragazzina di 14 anni Che, ai tempi, è stata morsa Da un mostro, diciamo Un infetto Solo che, qual è la particolarità di Ellie? E, a differenza di tutte le altre persone Che, appunto, vengono colpite dalla malattia Ellie, anche se è stata colpita È immune, diciamo, all'infezione Ed è l'unica persona esistente Immune all'infezione Che cosa significa? Che, appunto, dopo, vabbè Comunque, Joel va a prendere Ellie Se la porta via Come consegna Intanto Tess è andata a verificare Se effettivamente le armi esistono Insomma, fanno un sacco di cose Vanno al palazzo del governo Dove lì Tess, siccome non ho capito bene Che cosa è successo Comunque, alla fine Muore Si fa uccidere dalle guardie Per fargli perdere tempo A Joel e Ellie E continuano l'avventura Fino a Billy, un suo amico Poi arrivano Tornano da Tommy E Tommy, dopo, gli manda all'ospedale Dove, appunto, le luci Aveva cercato di mandare Joel ad Ellie Che cosa succede alla fine? Che torna alla capa delle luci Che gli dice che, appunto Con il suo braccio Praticamente potrebbero fare un intervento Per creare un vaccino Il che significherebbe Che a tutte le persone Che si stanno per trasformare Potrebbero, appunto, dare un vaccino Quindi rimarrebbe solo da uccidere Le persone infette E le altre, appunto Che non sono infette Ma non si sono ancora trasformate Avrebbero la possibilità Di essere curate Attraverso questo vaccino Grazie ad Ellie Il problema dell'intervento È che facendolo Ellie muore Joel, essendo ormai molto affezionato ad Ellie Questa cosa non gli va bene La porta via dall'ospedale Uccidendo una marea di guardie Scappa via Uccidendo anche la capa delle luci La porta in macchina E scappa via Tornando da Tommy In una città che non mi ricordo Mi pare che si chiama Jackson Arrivati alla città Prima di arrivare, appunto Sopra una collina Ellie gli fa Giurami che tutto quello che Mi hai detto sulle luci È vero Perché lei Una volta risvegliata Dall'effetto delle medicine Joel gli ha raccontato Che una bugia Ovvero che Siccome era quello che Che voleva lei Cioè Ellie voleva Essere uccisa Per appunto Prendere il vaccino Solo che Joel non lo sapeva Pensava che facesse la cosa giusta Appunto portandola via E quindi Cosa l'ha portata via E ha inventato una scusa Dicendo che Non è l'unica Ad essere immune Ma ci sono ben altre persone E poi hanno Addirittura Ha cercato di Ha dato un'altra bugia Ha detto un'altra bugia Appunto Ha detto che le luci Avevano smesso di cercare Un vaccino Allora Sopra questa collina Ellie gli fa Giurami che tutto quello Che hai detto sulle luci È vero E Joel ha giurato Ellie facendo Di sì con la testa Vanno E così finisce The Last of Us 1 È finita Raga Con questa Con questa Diciamo Il mini riassunto Che vi volevo proporre Dopo ben sette anni È arrivata La seconda parte Ragazzi Non vedo l'ora Di giocarla con voi Questa sera Diciamo che giocherò Sulle due Tre ore di gameplay Considerando che farò Video di mezz'ora Quaranta minuti Vedrete circa 20 parti E appunto Oltre a vedere Appunto 20 parti Cercherò Diciamo Allora Come saranno strutturati Questi video I video Praticamente Essendo un gioco Ricco di filmati Durante i filmati Cercherò Il più possibile Di stare zitto A meno che Proprio non ci sia qualcosa Che mi impressiona Roba del genere Mentre durante il gameplay Ovviamente Parlo E appunto Se c'è qualcosa Da dire Riguardante Il primo The Last of Us Durante il gameplay Lo dico Senza nessun problema Quindi Se anche vi siete persi Questo video Non capirete nulla Se non avete visto Il primo Diciamo Quindi dovete Vederlo Il primo Se non l'avete visto Ascoltatevi questo riassunto Che secondo me Ne vale la pena Perché Almeno se volete Vedere la seconda Parte Di The Last of Us Nel mio canale Ma non ne siete A conoscenza Della storia È un po' improbabile Riuscire a capirci qualcosa Raga Quindi Appunto Ascoltatevi questa parte Dopo Quando volete Vi guardate L'inizio della serie E così vedrete Che piano piano Tutti i pezzi Si vanno a collegare Insieme Niente ragazzi Questo era Quanto Ci vediamo Questa sera Molto probabilmente Vedrete il video Per le 21 Ma anche Più tardi Immagino Niente Con quello qua il video Spero che vi sia piaciuto Come al solito Se il video vi è piaciuto Lasciate un commento Mi piace Iscrivetevi al canale Diventa la campanina Per la parte di nessun video Seguitemi sui social Trovate tutti i link Nel video di fuoco canale 10 minuti di video Monetizzato No scherzo Anche perché non monetizzano Ancora niente Su youtube Io E Spero Spero Che con questa serie Ragazzi Spero che questa serie Sia la migliore Che abbia mai portato sul canale Perché Sia qualità di grafica Sia proprio A livello Proprio di Organizzazione del video Secondo me Questa serie Che porterò sul canale Sarà una bomba Ci vediamo nel prossimo video Che molto probabilmente Sarà direttamente Quello Dell'inizio della serie Di The Last of Us Ciao A